La vittoria era l'unica medicina per poter un attimino liberare la mente perché è vero che sono venute due sconfitte consecutive è vero che pure la squadra aveva perso un po' di sicurezza giocava non come al solito a corrente alternata e questo secondo me da quel poco di esperienza che ho accumulato era sinonimo di insicurezza quindi la vittoria è stata fondamentale proprio per questo per liberare la mente poi è venuta comunque giocando bene soffrendo il primo tempo e poi il secondo tempo non c'è stata partita siamo tornati ad essere devastanti come eravamo prima Ecco è stata una gara dai due volti forse il primo tempo abbiamo visto i fantasmi delle ultime due partite un po' di paura dopo il pari della temeraria Sì è questo perciò la vittoria era l'unica medicina per potersi scollare di dorso le paure e l'ansia che purtroppo una squadra giovane può pagare Ecco una squadra giovane ma che nonostante le assenze però è sempre presente sul campo e non fa sentire l'assenza delle persone squalificate o assenti per infortuni Sì è l'unico che ha detto una cosa del genere Sì è l'unico che ha parlato di assenze e di squalifiche purtroppo un mese da questa parte è in continua emergenza noi come staff e come squadra non l'abbiamo fatto pesare assolutamente abbiamo cercato di mettere le pezze come si vuol dire per cercare di andare avanti e cercare sempre di fare il nostro gioco il nostro credo per fortuna è venuta di ripeto la vittoria che è l'unica medicina poi sono contento perché al secondo tempo ho rivisto la squadra dell'inizio del campionato Ecco c'è ancora la possibilità di agganciare il primo posto oppure si gioca per evitare la prima fase dei playoff? Non facciamo calcoli perché quando abbiamo iniziato a fare calcoli a guardare la classifica, a fare le statistiche può sembrare un caso, può sembrare una coincidenza siamo venuti un pochino meno viviamo la giornata viviamo la giornata e continuiamo a fare quello che stiamo facendo perché anche le sconfitte sono frutto di maturazione l'ambiente deve crescere l'ambiente inteso come società, come tifoseria, come tutto è un calo che riferito alle sconfitte può essere fisiologico chi ha fatto calcio e chi fa sport lo sa benissimo che ci possono essere momenti in ogni annata a noi è successo, è passato e guardiamo avanti